Buonasera, in prima pagina anche oggi torniamo ad occuparci della morte del caporale degli alpini Tiziano Chierotti di Arma di Taggia, ucciso mentre era in missione in Afghanistan. I funerali di Stato saranno celebrati domani alle 18 a Roma e martedì prossimo ad Arma di Taggia. È particolare in un silenzio. Saranno celebrati domani alle 18 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma i funerali di Stato di Tiziano Chierotti, il caporale degli alpini di 24 anni di Arma di Taggia, ucciso in uno scontro a fuoco in Afghanistan. La salma di Chierotti verrà in seguito trasferita nella sua città dove è prevista un'altra funzione funebre per martedì prossimo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio. Probabilmente nella mattinata di martedì, prima della funzione, verrà allestita la Camera Ardente a Villa Boselli, a pochi passi dalla chiesa. Il rientro in Italia del fereto è previsto nella mattinata di domani. La Confcommercio ha invitato gli esercenti di Taggia a partecipare al lutto cittadino abbassando le saracinesche dei negozi in occasione dei funerali martedì mattina. Restano intanto sempre ricoverati in ospedale gli altri tre alpini rimasti feriti nello stesso scontro a fuoco che è costato la vita a Tiziano Chiarotti. Per fortuna comunque le loro condizioni non sono gravi. Intanto lunedì e martedì prossimi la giunta comunale di Taggia ha disposto il lutto cittadino in onore di Tiziano Chiarotti. Se l'arrivo della Salma fosse anticipata domenica sera, la Camera Ardente a Villa Boselli sarà aperta a partire da lunedì. In occasione del lutto cittadino, lunedì e martedì, il sindaco Genduso ha ordinato la sospensione di ogni tipo di mercato e manifestazione pubblica. Nelle scuole e negli uffici pubblici verrà osservato un minuto di silenzio alle 12 di lunedì e alle 11 di martedì. Tutti i commercianti sono stati invitati ad abbassare le saracinesche, a spegnere le insegne in occasione del passaggio del feretro e ai cittadini è stato chiesto di mettere bandiere tricolore ai balconi e alle finestre. Cambiamo argomento. Il presidente nazionale di Confindustria, Giorgio Squinzi, verrà ad Imperia per affrontare i problemi legati allo sviluppo economico. L'occasione per la visita sarà l'Assemblea degli Industriali Imperiesi in programma lunedì mattina presso l'auditorium della Camera di Commercio e Servizi. Europa, Italia, Riviera dei Fiori, la responsabilità dello sviluppo economico. Questo è il titolo dell'Assemblea 2012 di Confindustria Imperia in programma lunedì a partire dalle 10.45 nell'auditorium della Camera di Commercio. Il tema centrale sarà la crisi economica che ha investito l'economia internazionale, nazionale e locale. Per il presidente provinciale Alessandro Bocchio sarà l'occasione di tracciare il quadro della situazione locale confrontandosi direttamente con il vertice nazionale della categoria. Confindustria nel comunicare quello che si annuncia come un importante appuntamento di studio economico ha evidenziato come la situazione attuale venga descritta dai principali organismi di analisi internazionali come una delle fasi del ciclo economico globale di maggior crisi dalla Grande Depressione del 1929. Nell'immediato l'Italia perde ulteriore competitività a causa delle condizioni creditizie più avverse e dei bassi livelli produttivi. Per gli industriali è quindi fondamentale l'avvio di una stagione di riforme che ponga le basi per un ritorno alla crescita e allo sviluppo, a cominciare da uno Stato leggero e rigoroso, da una pubblica amministrazione che funzioni vicino ai cittadini e alle imprese, inflessibile contro chi non rispetta le regole e danneggia l'economia. Fra le richieste di Confindustria anche la riduzione del numero delle leggi, l'eliminazione delle incertezze di interpretazione e un forte intervento sulla burocrazia, considerata uno dei principali ostacoli agli investimenti in Italia. La presenza imperia di Giorgio Squinzi, presidente nazionale di Confindustria, e Paolo Buzzetti, presidente nazionale di Ance, saranno quindi preziose per fare un quadro complessivo dell'economia in Italia e delle principali problematiche che in questo momento frenano la ripresa industriale. Una banca della terra per riorganizzare le proprietà fondiarie della Liguria e recuperare i terreni abbandonati ed incolti. Questo è l'obiettivo di un disegno di legge studiato dall'agricoltura della regione Liguria, Giovanni Barbagallo, e approvato dalla giunta di Via Fieschi. L'ecosistema Liguria è a rischio e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Fasce terrazzate, boschi lasciati a se stessi, terre abbandonate, causa di frane e dissesto idrogeologico. Per ovviare a quello che sembra un inesorabile declino, la giunta regionale, su proposta dall'assessore all'agricoltura Giovanni Barbagallo, ha approvato un argomento di giunta che riguarda un disegno di legge sulle norme per il rilancio dell'agricoltura, la salvaguardia del territorio rurale e le istituzioni della banca regionale dei terreni. Un'iniziativa che non a caso arriva a distanza di un anno dai tragici fatti dell'alluvione che ha colpito le cinque terre, la Val di Vara e Genova. Attraverso il disegno di legge, la cui discussione in giunta dovrà concludersi nelle prossime settimane, per poi passare all'esame del Consiglio regionale, la regione lancia un segnale chiaro contro l'abbandono del territorio e l'incuria per favorire il ritorno alla terra. Barbagallo ha evidenziato che la volontà è quella di favorire il recupero produttivo delle aree a vocazione agricola abbandonate oppure sottutilizzate e per seguire anche l'aumento della superficie media aziendale, la costituzione di unità produttive più ampie ed efficienti, con enormi conseguenze anche sul piano occupazionale di reddito. Nelle previsioni dell'assessorato all'agricoltura sarà una fondazione, denominata Banca regionale della terra, a gestire il terreno al posto del denaro, favorendo processi di ricomposizione e di riordino fondiario. Nonostante le parole del ministro Elsa Fornero sul fatto che i giovani italiani siano quasi schizzinosi nel cercare lavoro, si sta registrando in seguito all'attuale crisi economica un ritorno dei ragazzi impiegati in agricoltura, una realtà che oltre ad un'importanza economica costituisce anche una piacevole riscoperta del territorio. Sentiamo il servizio di ADN Cronos. Assunzioni record in agricoltura, con il settore che registra un aumento nel numero dei lavoratori dipendenti del 10,1%, in netta controtendenza con l'andamento generale. È quanto emerge da un'analisi della Col di Retti, relativa al secondo trimestre del 2012. Cresce anche il numero dei lavoratori dipendenti, 2,9%, e dei lavoratori agricoltori, 4,2%, con ben 62.000 imprese attive condotte da ragazzi con meno di 30 anni. Secondo un'analisi condotta dalla stessa Col di Retti, il 50% dei giovani preferisce infatti lavorare in un agriturismo rispetto a un posto in banca o in una multinazionale. In generale, tra tutti gli italiani, ben il 28% scambierebbe il proprio lavoro con quello dell'agricoltore, considerato più salutare da un cittadino su due e più libero e autonomo dal 17%. Dati confermati anche dal fatto che circa un milione di italiani si classificano come hobby farmer, mettendosi al lavoro su appezzamenti di terreni. Il ritorno degli italiani alla terra è dimostrato anche a livello scolastico, dove gli istituti agrari, sottolinea la Col di Retti, hanno aumentato dell'11% il proprio preso percentuale sul totale di iscritti, mentre sono scesi quelle dei licei, secondo i dati di 2012 del MIUR. L'agricoltura è tra l'altro l'unico settore in controtendenza nel 2012, che fa segnare un aumento del PIL dell'1,1% sul piano tendenziale, mentre calano l'industria, le costruzioni e i servizi. Anche le aperture di nuove aziende agricole hanno superato leggermente le chiusure, con la presenza nel secondo trimestre di oltre 800.000 aziende agricole registrate negli elenchi delle camere di commercio. È bastato l'acquazione di ieri sera in provincia d'Imperia per causare alcuni problemi, in particolare a Sanremo e Ventimiglia. In diversi casi, infatti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per allagamenti, per fortuna limitati, dovuti soprattutto a tombini e griglie di scarico bloccati. A Busana un'auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio, ma per fortuna non sono stati registrati né feriti né danni gravi. Mobilitate anche tutte le strutture di protezione civile, pronte ad intervenire in caso di necessità, sia per il territorio imperiese che per un eventuale invio della colonna mobile regionale nelle zone del Levante Ligure. Lo stato di allerto ha comunque cessato nella mattinata di oggi. Il tunnel di Tenda a Limone-Piemonte, nella vicina provincia di Cuneo, è stato chiuso dall'ANAS a tempo indeterminato a causa di problemi strutturali. Gli automobilisti dovranno quindi seguire una serie di percorsi alternativi, rinunciando alla statale 20 della Varroia, utilizzando la statale 28 del Colle di Nava o l'autostrada Torino-Savona. I carabinieri del nucleo operativo d'Imperia, un arrestato ieri sera a Ettore Fresa, 36 anni, residente a Preline Valprino, con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Fresa è stato infatti trovato in possesso di 3 grammi di marijuana, suddivise in 3 confezioni, e nella sua casa sono stati ritrovati poi altri 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il taglio di altro stupefacente. I militari inoltre hanno trovato in una chiavetta USB delle fotografie di una maxi piantagione di marijuana che era stata sequestrata la scorsa estate dalla polizia nei pressi di Preline. Soccorsi in mare ieri sera a 40 miglia a largo di Imperia per un marittimo tailandese di 39 anni, colpito da Iclus a bordo di una nave da crociera della Carnival. Ad intervenire sono stati i marinai della Guardia Costiera d'Imperia, supportati da un elicottero della Marina Militare. Il marittimo è stato trasferito dalla moto Vedetti Imperiese e da questa affidato alle cure del 118 che ne ha poi disposto il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova, l'uomo versa in gravi condizioni. Ed è stato arrestato uno dei latitanti dell'operazione Kebab, il blitz scattato a 20 miglia due settimane fa per contrastare il fenomeno del traffico di grandestini verso la Francia che aveva portato a 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP Maria Grazia Leopardi dopo le indagini condotte dalla Polizia di Frontiera coordinate dal vicequestore aggiunto Andrea Falzone. Dei 14 intestatari delle misure restrittive ne erano stati fermati solo 12, ma da ieri c'è anche il tredicesimo. Si tratta di Bakri Komayes, 44 anni, tunisino, residente a Carpi in provincia di Modena, con permesso di soggiorno regolare rilasciato a Modena. E' proprio nella cittadina dell'Emilia Romagna che il fuggiasco aveva pensato di trovare rifugio alcuni giorni prima del blitz della Polizia di Frontiera. Incidente sull'autostrada dei Fiori in direzione Genova all'interno della galleria che precede l'uscita di Imperia Ovest. Alla guida della sua auto, una donna di 52 anni ha urtato contro il marciapiede della galleria, ha forato una gomma ed ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. La donna è stata prima a soccorso da un'automobilista di passaggio, poi sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Verde di Arma di Italia che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia. Bene, noi ci fermiamo qualche istante, tra poco. Grazie. 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 Il gruppo che fa capo all'ex sindaco Renzo Brunengo ha anche evidenziato che l'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Alessandri fin dal suo insediamento aveva già dimezzato l'orario di apertura al pubblico degli uffici del comune che sono nuovamente cambiati soltanto dopo una serie di proteste. Questa notte le lancette dell'orologio dovranno di nuovo essere spostate. Finisce infatti il periodo dell'ora legale che tornerà il prossimo 30 marzo e si ritorna all'ora solare. Alle 3 di questa notte quindi le lancette andranno portate indietro ed in pratica guadagneremo un'ora di sonno in più, quella che avevamo perso quando era stata approvata l'ora legale. Ma il guadagno più importante è il risparmio energetico attuato grazie all'ora legale. Si calcola infatti che grazie ad essa gli italiani abbiano risparmiato qualcosa come 500 milioni di euro di energia elettrica. Domani sbarcherà ad imperio il raduno della Bugatti giunto alla 24esima edizione. Quest'anno l'iniziativa è supportata dallo Yacht Club e 16 meravigliose vetture costruite dal 1920 al 1932 saranno a Borgo Marina davanti alla sede dello Yacht Club per tutta la giornata. L'esposizione della Bugatti Club Italia si terrà dalle 9 alle 20 e sarà un'occasione di richiamo per appassionati o semplici curiosi provenienti da tutta Italia. Questa sera al Teatro Cavour d'Imperia in programma il concerto vocale strumentale in occasione del 40esimo anniversario del Circolo e degli Amici della Lirica. Il concerto ad ingresso libero prenderà il via alle 21 con la partecipazione dell'ensemble strumentale Belle Epoque e della soprano Gabrielle Moulin. Bene, ora ci occupiamo dell'autostrada dei Fiori con i cantieri a partire da lunedì della prossima settimana e del quadrometeo. Questi cantieri che si incontreranno lungo l'autostrada dei Fiori da lunedì 29 ottobre a domenica 4 novembre. In direzione Francia, carreggiata nord, fra Albenga e Andorra, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per sostituzione di antenne radio nella Galleria Marino da lunedì 29 a mercoledì 31. In direzione Genova, carreggiata sud, fra Andorra e Albenga, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento del pannello messaggio variabile da lunedì 29 a mercoledì 31. Tra Feglino e Spotorno, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì 29 a sabato 3 anche notturno. Bene, con il quadrometeo vediamo come sempre la situazione di oggi. La temperatura minima è registrata a 13 gradi, 17 la massima, 21 del mare. Umidità 88%, vento da sud ovest ad una velocità fra 5 e 15 km orari. Cielo regolarmente nuvoloso, mare tra poco mosso e mosso, pressione 987 ectopascali in diminuzione. Le previsioni per domani e prossimi giorni. Domani al mattino cielo coperto con piogge deboli e persistenti, in esaurimento dei fenomeni e pomeriggio con timide schiarite. I venti sedentrionali da moderati a forti, mare mosso o molto mosso sulla costa agitato a largo. Le temperature in ulteriore calo, anche se localmente si potrebbero verificare rialzi per effetto caduta. Lunedì sarà una giornata soleggiata e ventosa, variabile martedì, con possibili precipitazioni sparse più diffuse nella giornata di mercoledì. Domani e domenica 28 ottobre, il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 17.23. La luna è in fase crescente, cala alle 5.35 e eleva alle 16.33. Bene, con il meteo chiudiamo il nostro giornale e l'appuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperiatv.it. Grazie per l'ascolto, a tutti voi una buona serata e una buona domenica. Grazie per l'ascolto, a tutti voi una buona domenica.